È un piacere essere qui oggi e darvi un saluto da parte del Ministero della Cultura che il Segretario regionale rappresenta in Regione Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo creduto in questa iniziativa, l'abbiamo sostenuta nell'ambito di un'attività che svolgiamo ormai da tre anni di accordi di valorizzazione, quindi coinvolgono istituzioni, realtà locali impegnate sul territorio alla valorizzazione dei beni culturali, allo studio e alla loro promozione. Quindi siamo veramente lieti di questa iniziativa che è molto impegnativa, quindi non voglio assolutamente rubare altro tempo ai lavori, quindi ringrazio il Dottor Guarda che ci ha voluti partner in questo progetto scientifico così interessante e quindi rinnovo il benvenuto e gli auguri di buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, molto gentile. Grazie per le cortesi parole. Io cederei la parola adesso a Stefano Magnani che parlerà delle ragioni di questo incontro. Buongiorno a tutti, buongiorno Dottor Cassanelli, la ringrazio per le parole di introduzione, la ringrazio anche per il supporto che viene dal Ministero della Cultura per questo incontro che è stato organizzato dalla Società Filulana di Archeologia, dal Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e dall'Associazione Nazionale per Aquileia nell'ambito di una collaborazione che auspichiamo possa continuare anche nei prossimi anni. In realtà questo incontro unisce quelli che originariamente volevano essere due incontri da organizzarsi successivamente nel corso del tempo, il primo dedicato al V secolo che avrebbe dovuto svolgersi esattamente un anno fa e il secondo appunto in questo periodo. Chiaramente la condizione pandemica ci ha indotti ad annullare il primo incontro e poi a riunire alla fine, sfruttando quelli che sono i canali informatici, gli strumenti informatici che oggi abbiamo a disposizione, a riunire i due incontri in un'unica occasione di discussione, di confronto. e forse da un certo punto di vista questa unione è anche positiva. Purtroppo non ci possiamo incontrare direttamente, non possiamo essere ad Aquileia o in un'altra realtà tutti assieme a confrontarci di persona, ma tutto sommato questo ampliamento dal punto di vista cronologico, l'apertura su una più lunga durata dell'esame offre sicuramente delle possibilità in più rispetto al progetto iniziale, cioè al progetto di affrontare un dibattito riguardante prima un secolo e poi l'altro. Questo per diversi motivi, sono di natura storica e anche di altra natura. Uno di questi è legato al fatto che in effetti V e VI secolo, che pure rappresentano un'epoca di straordinaria trasformazione, di radicale, a un certo punto trasformazione avvenuta però sul lungo periodo, possono essere visti da un certo punto anche come una sorta di realtà unitaria al suo interno, unitaria per i fenomeni che vi si sviluppano, che sono fenomeni sociali, politici, fenomeni economici, che hanno la loro origine da un certo punto di vista con la separazione dell'impero romano in due parti, la pars orientalis e quella occidentalis, a partire da Teodosio e hanno come termine quella frattura del Mediterraneo che alla fine del VI secolo è ormai una realtà ma che poi si sarebbe completata successivamente con la conquista araba del Nord Africa, fondamentalmente, quindi in una visione piregnana, se vogliamo, della storia. D'altra parte unire i due incontri offre la possibilità di ampliare il discorso su una parte alla quale noi come organizzatori, quindi Luca Villa, il dottor Wara, teniamo molto, ovvero la prima parte, quella che avremo modo di seguire oggi, dedicata agli aspetti geologici e geomorfologici, a quelle ricerche in questo ambito che più difficilmente possono essere ristrette a fenomeni cronologicamente limitati, temporalmente ristretti a una fase annuale, decennale o addirittura ad un arco ancora più ridotto, che invece può essere l'oggetto, per esempio, di una ricerca di ambito archeologico o di una ricerca di ambito epigrafico, che utilizza o si appoggia su una cronologia molto più ristretta e precisa. Nel caso delle indagini in ambito geomorfologico, chiaramente i dati che vanno ancorati a tutta una serie di altre ricerche hanno una intrinseca imprecisione che meglio si adatta a una visione più ampia, da questo punto di vista, come quella che offre, in questo caso, l'organizzazione di un incontro che prende in considerazione un arco cronologico più ampio. E d'altra parte proprio questo tipo di ricerche oggi, dal nostro punto di vista, fondamentale, è alla base di ogni altro tipo di tentativo di ricostruzione storica, così come alla base di quelli che sono, dal punto di vista, interessi anche personali, per riuscire a capire quello che è il rapporto stretto ma difficile sempre da definire tra le trasformazioni dell'ambiente e il ruolo che l'attore umano ha all'interno di queste trasformazioni, come l'uomo, la società, per meglio dire la società umana, agisce e trasforma l'ambiente circostante, determina la trasformazione e la nascita di nuovi paesaggi, per cui quello che possiamo interpretare di volta in volta come trasformazione in senso positivo o negativo, degrado di una certa realtà o sviluppo di un'altra, è semplicemente un diverso modo di emergere delle forme di questo rapporto complesso. Senza l'apporto delle scienze geologiche, geologali, molti elementi utili a questo tipo di discorso non sarebbero disponibili e pertanto auspico proprio che oggi emergano elementi utili anche per i prossimi giorni, anche per le discussioni da portare avanti nei prossimi giorni come poi in futuro. Per quello che riguarda l'ambito geografico, la scelta di limitare il discorso all'Italia settentrionale e all'arco alpino è legata da un lato alla volontà di rimanere, almeno così eravamo originariamente, legati a quello che è un po' il centro di questa regione, Aquileia, e l'impatto, il ruolo di Aquileia all'interno del contesto dell'Italia settentrionale, ma si lega anche al fatto che i processi che sono in atto tra quinto e sesto secolo sono processi che soprattutto portano a una trasformazione della realtà dell'Italia settentrionale più che in altri contesti. Portano a una trasformazione del modo di vita degli individui, del modo in cui si rapportano col territorio, del modo in cui conducono la propria esistenza dal punto di vista associativo, del modo in cui anche dal punto di vista del diritto è regolata la loro esistenza. Quella che era una realtà stabile, sicura e tranquilla nei secoli precedenti, in questa fase, diventa una realtà attraversata da problemi, pericoli, difficoltà sempre crescenti, minacce che modificano completamente la vita degli individui che vivono in questa regione. Dunque anche questo ci ha spinti a restringere all'Italia settentrionale ad un ambito circoscritto dal punto di vista geografico, se non altro per una concezione antica che vedeva già nelle Alpi una sorta di limite dell'Italia settentrionale e nell'Appennino, sua volta, un confine a restringere questo ambito e ovviamente comprendere però quelle che sono le realtà limitrofe strettamente in contatto con questo. Auguro a tutti quanti un buon lavoro e un buon ascolto per coloro che si sono collegati per seguire le diverse relazioni.